Io credo che quello che c'è dietro lo sport è quello che delle volte non si conosce e che in realtà è tantissimo perché noi molte volte vediamo la gara, vediamo quell'attimo, ma tutto ciò che ci sta dietro è quello che poi rende quel momento così importante. Io credo che lo sport ti faccia vivere emozioni uniche e quindi un po' lo sport, un po' sicuramente oltre lo sport avere degli obiettivi, degli obiettivi propri e seguirli perché credo che la strada non è mai già spianata, ma il costruirsi la strada verso il proprio obiettivo e poi guardare indietro tutto il percorso che hai fatto credo che sia qualcosa di unico.